Bene, buongiorno a tutti, questo intervento è relativo a un sistema offerto ai cittadini per migliorare la possibilità di partecipare nel percorso di formazione del nuovo piano regolatore di Trento percorso che l'amministrazione ha cominciato lo scorso anno e che ha portato recentissimamente all'approvazione degli obiettivi che si vogliono perseguire appunto con il nuovo piano regolatore. Questa è una fase prevista dalla legge urbanistica, il percorso di formazione e approvazione del piano regolatore rimane quello tradizionale con il consueto passaggio in consiglio comunale prima adozione, il periodo delle osservazioni da parte dei cittadini, tra parentesi l'urbanistica è stato uno dei primi campi dove è stata introdotta molto tempo fa la partecipazione, questo è un dato che vale la pena di ricordare, il secondo passaggio in consiglio comunale è l'approvazione da parte della giunta provinciale, quindi il percorso rimane quello consueto ma la legge introduce una prefase che è questa che stiamo vivendo in questi giorni. Cos'è? L'amministrazione che intende partire con questo percorso deve dettagliare gli obiettivi che vuole perseguire, li deve approvare e li deve rendere pubblici e nella fase di pubblicazione degli obiettivi chiunque interessato può segnalare, fare delle proposte, portare noi diciamo dei contributi. La legge usa un'espressione abbastanza particolare, cioè dice che in questa fase si possono presentare proposte non vincolanti a titolo meramente collaborativo, insomma una definizione un pochino complessa, ma per differenziare questa fase dalla fase delle osservazioni che giuridicamente hanno un peso diverso e consolidato. Per preparare questi obiettivi l'amministrazione si è organizzata con una squadra, una squadra molto composita, anche questo nel senso della partecipazione, per cui c'è un tavolo tecnico che ha tradotto il documento di indirizzo politico votato ancora nel marzo del 2017 e questa squadra è formata da rappresentanti del comune, ovviamente da rappresentanti dell'università, qualche referento scientifico per la città e dai rappresentanti degli ordini professionali che si occupano appunto di trasformazione del territorio. Cosa è stato prodotto? È stato prodotto appunto il documento di identificazione degli obiettivi. Siccome è un tema complesso, la complessità dei temi richiede un articolato importante, per dare concretezza e coerenza agli obiettivi si è sviluppato un'articolazione di questo genere. Cinque sfide che sono appunto il quadro di coerenza entro cui si situano gli obiettivi, gli obiettivi e una serie di strategie per delineare in modo un po' più concreto quali sono le strade che si possono percorrere per raggiungere questi obiettivi. Le sfide per il futuro di Trento sono appunto cinque. La prima è Ecco Trento. Abbiamo voluto dare dei nomi molto sintetici che si facessero intendere da subito qual è il tema che si va affrontando. Ecco Trento perché l'aspetto ambientale è un aspetto sempre più richiesto nella formazione dei piani urbanistici. Peraltro ormai non si parla più di urbanistica ma si parla di governo del territorio, nel senso proprio molto più complesso rispetto a quello che è stato l'inizio della nascita dell'urbanistica. Va anche detto che i temi di cui si deve fare carico il PRG sono molto più vasti rispetto a una volta perché noi ci facciamo carico anche dei temi del piano territoriale della comunità che per altri invece in realtà è affidato proprio alla comunità. Nel nostro caso coincidono. La seconda sfida è Trento accogliente. Si può andare avanti? Trento accogliente. Accogliente è una parola che abbiamo soppesato molto perché non si tratta solo della Trento turistica. Voi sapete perfettamente che l'andamento del turismo da noi ha avuto un formidabile sviluppo ma Trento vuole essere una città non solo turistica ma accogliente in senso lato. Ad esempio nei confronti dell'università, degli studenti universitari, dei professori e degli assistenti e di tutti quelli che collaborano ma nel campo della conoscenza in senso lato il sistema dei musei è un sistema sviluppatissimo e che attrae fortemente molti cittadini. La terza sfida è quella di Trento accessibile. Si sa che la mobilità e il sistema di accessibilità non può essere disgiunto dalle previsioni urbanistiche e quindi grande attenzione è stata data anche a questo tema. La quarta sfida è Smart Trento. Siamo qui e quindi parliamo di Smart. Smart è parola usatissima. Chi è qua sicuramente è più avvezzo di altri a sapere di cosa stiamo parlando. Però Smart non è solo nuove tecnologie. Smart è qualche cosa di più. e nel documento abbiamo voluto in particolare sottolineare la possibilità di semplificare questi strumenti che a volte vengono visti veramente come un aggravio estenuante purtroppo rispetto alla possibilità che la città si sviluppi. Quindi lo sfruttamento delle tecnologie anche in questa direzione. L'ultima sfida è Bella Trento, parola che sembra forse un po' banale ma invece non lo è, è estremamente impegnativa. Noi sappiamo che la città offre già un elevato livello di bellezza. Pensiamo al centro storico, basta che ci guardiamo, guardiamo la sede in cui stiamo chiacchierando oggi. Ma in realtà c'è un'altra bellezza soprattutto legato al paesaggio aperto, al paesaggio rurale che va sicuramente valorizzata. Queste sono le cinque sfide. Allora come dicevo, se possiamo passare, come dicevo, voi non lo leggete ma ve lo racconto, a queste sfide sono collegati degli obiettivi e a questi obiettivi sono collegate delle strategie. Le sfide sono cinque, gli obiettivi sono diciotto se non ricordo male, le sfide sono sessantatré più o meno. E quindi capite un sistema articolato, complesso, ma perché d'altronde, ripeto, è la realtà complessa che noi dobbiamo affrontare. Per cercare di migliorare la partecipazione dei cittadini si è cercato di utilizzare anche altre forme di diffusione di questo momento. Peraltro preciso che la cittadinanza fa un po' di fatica a comprendere questo passaggio perché è la prima volta che lo affrontiamo, perché non sono abituati, perché pensano comunque di portare osservazioni a un progetto e quando arrivano e non vedono un progetto sono un po' disorientati. Questo non è un progetto, questo è un documento di obiettivi. Sarà solo raccogliendo i contributi di tutti quanti che arricchiremo il nostro bagaglio di conoscenza per poter fare allora sì un progetto, il progetto migliore possibile ovviamente anche sulla scorta dei contributi. Per facilitare appunto questo sistema, oltre ai consueti incontri che abbiamo fatto con tutti gli interlocutori tradizionali, ma abbiamo allargato anche a una serie di portatori di interesse, gli ordini professionali, le associazioni di categorie, ovviamente anche le altre amministrazioni con cui comunque necessariamente e opportunamente dobbiamo mantenere i contatti. Abbiamo pensato di sviluppare una piattaforma per rendere più interattivo possibile il contributo dei cittadini. Io quindi mi fermo qua e passo la parola a Giacomo Fiori. Grazie Giuliano. Il tema appunto che era toccato prima e una delle sfide che tocca a questo documento degli obiettivi, io però mi alzo in piedi perché dopo vorrò mostrare, è tutto più semplice per me, era appunto quello della Smart Rento. Siamo alla Smart City Week e cosa vuol dire Smart City? Vuol dire usare la tecnologia, vuol dire usare la conoscenza, la partecipazione delle persone per migliorare i servizi e la qualità della vita e com'è Trento. Quindi anche la costruzione del futuro di Trento, appunto un portale per costruire il futuro, vuole proprio arrivare a realizzare questa sfida anche proprio, quella di Smart Rento. ovvero sia abbiamo colto questa sfida accettata per realizzare appunto un portale, quindi un portale che permetta di presentare facilmente il documento che avete visto. Quindi abbiamo provato, è stato pubblicato, è stato pubblicato un documento in pdf, ma ormai anche un documento cartaceo, leggere un documento è comunque un'operazione che richiede tempo, richiede voglia, impegno. Allora abbiamo cercato di realizzare questo portale che permettesse in un primo tempo di vedere più semplicemente e scorrere più semplicemente questo documento per poi poter ricevere i contributi delle persone, appunto come ha detto Giuliano. Quindi abbinare modalità tradizionali come quello di inviare un'email o arrivare col proprio documento all'ufficio e dare le proprie osservazioni, non osservazioni in questo caso ma contributi, a poterlo fare direttamente, dare delle valutazioni ai propri contributi direttamente da web. Allora appunto il portale permette innanzitutto di vedere il documento appunto composto come aveva detto Giuliano da 5 sfide, 18 obiettivi e 61 strategie e di suggerire intanto da subito quello che è possibile fare. Quindi cosa devi fare? Devi leggerti la presentazione per capire di cosa stiamo parlando, entrare nelle sfide, guardarle, leggere i singoli obiettivi collegati alle sfide e le relative, le strategie relative collegate per poi dare il proprio contributo. Quindi il portale cerca anche di presentarci in una forma grafica un po' accattivante, quindi mettendo i cittadini nello sfondo che permettono appunto di avere l'opportunità di costruire da oggi il futuro di Trento, quindi riporta le date previste anche per legge, quindi un mese di tempo, anzi 30 giorni previsti per dare il proprio contributo e quindi suggerisce già come fare, quindi entra nelle sfide, contribuisce agli obiettivi e alle strategie collegate e scopri come. Lo scopriamo proprio, vediamo molto brevemente come è possibile fare e poi lo vediamo proprio dal vivo, quindi in ciascuna sfida viene presentata anche un'immagine rappresentativa della sfida, il testo, esattamente il testo che trovate nel documento e quindi è possibile leggere in cosa consiste la sfida e quindi vedere gli obiettivi collegati subito sotto e accedere agli obiettivi che la compongono, quindi è possibile accedere al singolo obiettivo, cliccando su un obiettivo è possibile vedere già nell'obiettivo, si vede intanto da quante strategie sono state individuate per quello specifico obiettivo e poi a lato c'è anche quanti contributi, il numero dei contributi che le persone hanno effettivamente fatto, quindi iniziare già a vedere, ma guarda ci sono già stati fatti 12 contributi su questo, aspetta che andiamo a vederli. La stessa cosa appunto si entra nella strategia e quindi si legge ancora il testo della strategia, vedete che hanno fatto un grande sforzo effettivamente, cercare di avere un testo molto rappresentativo della strategia in tre righe in questo caso, che però rappresenta esattamente quello che vuole fare il Comune di Trento rispetto a quell'obiettivo in risposta a quella sfida. A questo punto cosa può fare il cittadino? Può dare un giudizio per ciascuno dei singoli obiettivi, ciascuno delle singole strategie in questo caso e appena fatto ogni cittadino, ovviamente lo può fare autenticandosi, lo può fare solo una volta, quindi dare un voto e immediatamente viene aggiornata la media dei voti, quindi si può vedere quel singolo obiettivo strategia che i voti hanno ricevuto. Si può rimanere aggiornati e quindi ricevere anche delle mail in caso di essere aggiornati se vi sono nuovi contributi e si può aggiungere il proprio contributo. Il contributo quindi riguarda proprio il testo, quello che si portava con un documento e quindi la possibilità di dire cosa se ne pensa rispetto a questa specifica strategia. Ecco, questa modalità di partecipazione, normalmente quando si dice il Comune ha messo in partecipazione un documento, tutti possono mandare un'email. Sì, si possono mandare l'email, l'email però vengono lette solo dagli uffici. Alla fine dei tempi previsti della partecipazione, quello che viene fatto, viene detto dall'amministrazione è abbiamo ricevuto 156 contributi, i più interessanti sono questi 5 e cercheremo di fare. E tutti gli altri quali sono? E quali erano effettivamente i più interessanti? A questo punto invece una piattaforma, un portale in questo caso di questo tipo permette a tutti di verificare in tempo reale quali sono i contributi e anche di contribuire. Quindi si possono leggere i contributi, valutare anche i singoli contributi, dire sì, questo è una cosa interessante, questo no, guarda, lasciamo stare, secondo me non ha assolutamente senso. Quindi dire semplicemente anche cosa si pensa di un contributo o di un altro, dare il proprio contributo o rispondere al contributo per dire che se si è d'accordo oppure confutare quell'idea. Quindi dire, no, guarda, secondo me questo non è corretto, io la penserei in un'altra maniera. Quindi questo per qualsiasi tipo di contributo dato. E appunto è possibile seguire in tempo reale tutta la partecipazione. Quindi vedere per ogni sfida, all'interno di ogni sfida, per ogni, ad esempio, obiettivo e strategia, quali sono i voti medi dati alle singole, in questo caso, strategie e quanti contributi sono stati effettivamente inseriti per quella strategia. Ecco, è possibile inoltre scorrere il documento in un altro modo. Quindi questo appunto grazie al fatto che è un portale, quindi è un sito web. Siamo abituati ormai a girare per le pagine di un sito non secondo un ordine ben definito. C'è la possibilità a ciascuna sfida e strategia e obiettivo è stato segnato anche un tema specifico. Ad esempio è possibile guardare quali sono le strategie collegate al tema della mobilità e immediatamente compaiono tutte quelle collegate al tema della mobilità. E quindi arrivare a valutare e a leggere direttamente queste, per poi, ovviamente, scorrere anche l'indietro per capire che quella è una strategia che però è collegata all'obiettivo e che risponde a una sfida. Però intanto ho l'opportunità di leggerla in questo modo. Quindi, tante possibilità, riassumendo, è un portale che permette di leggere velocemente e seguire la struttura del documento che è stato approvato in consiglio, articolato in sfide, obiettivi e strategie ed è possibile, appunto, scorrere e per poi valutarli. A questo punto il Comune cosa ha fatto? Ha realizzato anche una modalità, quindi questa è una modalità, vediamo, digitale, innovativa, però non è che tutti, ovviamente, useranno questa. Questa si aggiunge a quello che è già messo a disposizione, quindi gli uffici del progetto di revisione del PRG che in via del Brennero sono a disposizione, così come è stato realizzato il Trento Lab, quindi quello che spesso viene chiamato Urban Center, in questo caso dedicato in questa prima fase espressamente a questo, è aperto due volte in settimana dove poter avere informazioni specifiche su questo. Ecco, abbiamo però realizzato anche questo portale. e adesso proviamo assieme, velocemente, a vedere come è possibile utilizzarlo. Quindi ci si connette al portale, anche l'indirizzo è molto semplice, prg.comune.trento.it, a questo punto si può scorrere il documento. Per poter inserire un contributo, adesso simuliamo di andare a leggere e di scendere e di guardare la sfida Bella Trento. Nella sfida Bella Trento andiamo a vedere, possiamo leggere quindi il contenuto e vedere l'obiettivo 5 e 2. Quindi la salvaguardare e valorizzare il paesaggio. 5 e 2. Quindi si può leggere il contributo a lato, già qua si potrebbe dare una valutazione, però come vedete qua c'è scritto che per contribuire a questo obiettivo bisogna accedere, perché tutti possono leggere senza nessun problema, non serve autenticarsi per farlo, ma per poter fornire il proprio contributo bisogna accedere. A questo punto clicchiamo su accedi, così da vedere come cambia. Viene chiesto, è possibile inserire una credenziale, registrarci qua sotto, oppure utilizzare anche un account di Google, adesso senza fare la registrazione, ottenere l'email e registrarsi, usiamo il mio account di Google del comune, che è già configurato. Mi sono già registrato su questo, immediatamente i dati vengono riconosciuti con il mio nome e il mio cognome e posso effettivamente adesso fornire il contributo. Scendiamo e già qua ho l'opportunità di aggiungere il primo contributo. In questo caso non voglio dare il contributo direttamente qua, ma voglio scendere sul 5 e 2 e 4, identificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico contemporaneo e qua vediamo la descrizione della strategia e qua possiamo dare, intanto possiamo dare una valutazione su questo fatto. Diamo 4 stelle ad esempio. Sì, spieghiamo adesso. Giuliano, questa è la spiegazione di come si usa il portale, ma di cosa poter inserire adesso lo spiega giustamente Giuliano. Cerchiamo di far capire bene il senso dell'operazione. Allora, se voi scorrete il documento vedrete che uno dei primi obiettivi è quello dello stop al consumo del territorio, peraltro in assoluta coerenza con quello che dice la legge urbanistica provinciale che appunto chiede la massima limitazione al consumo di territorio. Ovviamente a fronte di questo obiettivo ce n'è uno parallelo che dice fermi con utilizzare un nuovo territorio, concentriamoci sul patrimonio edilizio esistente, cerchiamo di facilitare e di valorizzarlo il meglio possibile. È chiaro però che il patrimonio edilizio esistente non è una sorta di terra di conquista, non è che può essere preso d'assalto, vanno fatto di distinguo. Ad esempio, il nostro sistema urbanistico per ora non ha introdotto tutele sul patrimonio dell'architettura contemporanea e quindi una delle strategie è proprio questa. A questo punto qualunque cittadino potrebbe dire ma rispetto a questo tema o non sono assolutamente d'accordo perché non c'è nulla che valga la pena che venga preservato oppure dice sì, condivido pienamente, segnalo che c'è questo caso. Che ne so, per usare un tema che divide, visto che siamo su una piattaforma che dovrebbe portare alla discussione, uno potrebbe dire segnalo il quartiere delle torri di Madonna Bianca come un esempio classico proprio di modello di pianificazione degli anni 70 che ha voluto valorizzare nel modo più forte la quota, la dotazione di verde andando a realizzare questi edifici in elevazione, questi grattacieli che sono stati e hanno continuato ad essere inconsueti rispetto a quello che è il paesaggio trentino. Ecco, questo è un esempio di contributo che potrebbe essere posto. Quindi operativamente adesso Alex è andato a cliccare su aggiungi tu per primo perché questo in questo caso sarebbe il primo contributo e inserire direttamente quello che appena ha indicato Giuliano. quindi il fatto che approva la possibilità o comunque ritiene che la valorizzazione del patrimonio possa riguardare perfettamente le torri di Madonna Bianca che appunto sono un esempio dell'architettura contemporanea. Dopodiché appunto quel contributo viene inserito nella piattaforma rimane inserito e a questo punto appunto si vede che in questo caso io perché mi sono autenticato ovviamente col mio utente e c'è questo inserimento. Cos'è possibile fare Alex allora a questo punto? Sì a questo punto un altro cittadino può rispondere a questo contributo tramite il pulsante che compare qui sotto oppure come in Facebook mettere il pollice su o il pollice verso al commento quindi dire sì sono d'accordo anch'io a questa cosa oppure no oppure rispondere oppure addirittura aggiungere un altro contributo sempre rispetto a questa strategia ma su un'altra attività. Torniamo alla presentazione questo era proprio per darvi un esempio di come è possibile realizzare tutto ciò ovvero sia in modo molto semplice si accede al portale si scorre il documento si valutano le varie idee e si può dare il proprio contributo e rispondere ai contributi degli altri. Per poter fare tutto questo ovviamente il Comune di Trento può avere una visione ma ha bisogno di qualcuno che aiuti a fare tutto ciò e in questo appunto si è appoggiato alla Fondazione Bruno Kessler qua rappresentata dal Dottor Gabriele Zacco. Grazie Giacomo ringrazio il Comune per l'invito a partecipare e a spiegare un pochettino in cosa consiste la collaborazione rispetto a questa attività a questo tema e questo è importante perché diciamo fa capire come la partnership tra il Comune e FBK che ha molti sviluppi in diversi settori diciamo qual è il ruolo diciamo di questa collaborazione. il ruolo potrebbe essere semplificato pensandolo solo a una cosa tecnica quindi allo sviluppo di questo software che state vedendo è anche questo ma in realtà è qualcosina di più che si colloca in maniera permia molto di più diciamo quello che sta succedendo in questa piazza oggi cioè il fatto che dietro a questa Smart City c'è della ricerca c'è del tentativo di fare innovazione e di studiare questo fenomeno. Questo è quello che facciamo alla fondazione tramite un laboratorio di una quindicina di persone che sviluppa del software ma anche attraverso un'unità che coinvolge quasi un'ottantina di ricercatori e che cerca di analizzare questo fenomeno della Smart City in tutte le sue componenti da un punto di vista scientifico. Quindi mi preme dire questo che nei vari progetti che abbiamo con il Comune relativamente alla partecipazione che poi è il tema di questa edizione della Smart City Week diciamo ci sono delle pensate molto profonde ci sono dei tentativi di comprendere il fenomeno di fare degli esperimenti questo è proprio uno di quelli quindi un modo per vedere come fare partecipazione come sfruttare meglio poi anche delle tecnologie perché tutto sommato comunque facciamo quello alla fine nella nostra unità nella nostra linea di ricerca sviluppare software ad esempio quello che facciamo è capire come la tecnologia debba aiutare e non essere d'intralcio in un'attività come questa cioè di applicazioni di software di portali ce ne sono centinaia lo store di Apple o di Google è pieno di applicazioni che non vengono usate il nostro obiettivo è capire come rendere uno strumento così veramente utile farlo utilizzare è una cosa a cui lavoriamo da parecchio tempo e diciamo questa è un'altra istanza un altro tentativo un altro esperimento se vogliamo che rientra in questo in questo tema vedremo il risultato cosa sarà diciamo non lo possiamo dire a priori vedremo alla fine di questo mese e poi con eventuali prosecuzioni diciamo dell'utilizzo di questo portale se avremmo avuto ragione o come migliorare eccetera la cosa importante il secondo aspetto che volevo sottolineare è quello relativo all'introduzione della tecnologia in una tematica come questa è il tentativo di capire qual è il giusto equilibrio tra virtuale e reale qui in certo senso stiamo spingendo con questo strumento un tentativo di virtualizzare la discussione quindi di farla senza che le persone si incontrino questo deve essere secondo noi uno degli aspetti che può aiutare la discussione la comprensione la condivisione ma diciamo non deve essere una cosa che devia totalmente il canale di comunicazione come si diceva i canali principali possono rimanere quelli reali quindi andare negli uffici a presentare le proprie proposte a discutere a parlare a capire questo è uno strumento che può avere un senso diciamo complementare ai canali tradizionali di incontro e di discussione quindi può risolvere dei problemi di spazio o di tempo per cui qualcuno non ha la possibilità di andare a parlare direttamente con le persone e quindi può farlo in maniera virtuale tecnologica attraverso la piattaforma un altro esempio del fatto che cerchiamo di integrare la comunicazione tra le persone con quella tra le persone attraverso le macchine diciamo è il fatto che nella piattaforma forse l'avete notato c'è la possibilità ad esempio di definire degli eventi quindi in connessione con gli obiettivi o con le strategie l'amministratore della piattaforma per il momento solo l'amministratore ma poi vedremo anche in altre si potrebbe anche aprire anche a cittadini questa possibilità si possono definire degli eventi quindi organizzare degli eventi pubblicizzare delle occasioni di incontro fisico reale tra le persone che sicuramente è una cosa che non va non va trascurata un'altra considerazione che faccio e poi chiudo è che questo si inserisce in una storia che abbiamo di collaborazione con il comune sul tema della partecipazione ci sono delle esperienze passate almeno un paio di progetti in cui abbiamo già analizzato questo tema della partecipazione dei cittadini Futura Trento il progetto europeo We Live adesso questa cosa la stiamo portando avanti all'interno di un altro progetto che si chiama Stardust di cui parliamo volentieri con voi nei nostri stand qua in piazza Duomo se verrete a trovarci vi daremo più dettagli e che appunto tra i suoi obiettivi anche quello di studiare ulteriormente questo fenomeno della partecipazione e di capire come può contribuire davvero a rendere più smart una città infatti come diceva Gabriele appunto questo è uno dei tasselli proviamo a dare uno sguardo d'insieme adesso e come diceva Gabriele prima questo rappresenta un primo test di discussione partecipata di documenti sulla discussione partecipata di documenti il Comune di Trento non aveva realizzato un portale di questo tipo che stiamo testando ad esempio anche Piacentini ha messo in discussione tutta la documentazione l'ha citata usando dei sistemi che già esistono e per documenti anche tecnici è assolutamente utile così come anche legislativi in questo caso un documento di pianificazione incentrato su sfide obiettivi e strategie che poi invece possono diventare sfide obiettivi e implementazioni ovvero delle strategie di quello che si vuol fare è uno schema che viene utilizzato spesso nei documenti di pianificazione quindi può essere riproposto anche in altri documenti ad esempio un futuro piano di Trento Smart City potrebbe essere realizzato proprio nello stesso modo per poi metterlo in discussione è uno degli obiettivi che abbiamo però ecco questa modalità quindi questo portale di partecipazione messa in discussione appunto partecipate dei documenti è un tassello di una piattaforma di partecipazione più strutturata che il Comune di Trento sta realizzando quindi si parla di discussione dei documenti ma c'è tutto il tema dei beni comuni Futura Trento qua stiamo parlando di Futura Trento obiettivi PRG perché in realtà il logo Futura Trento è già stato utilizzato dal Comune di Trento è già stato utilizzato in un progetto pensato per le politiche giovanili che rispondeva un bando ha ottenuto finanziamento dal governo centrale all'interno del progetto Meet Young Cities appunto per fornire dei sistemi innovativi e supporto delle giovani generazioni in questo caso noi abbiamo cercato di adattarlo proprio a come i giovani potevano usare la tecnologia all'interno del tema dei beni comuni quindi già il portale Futura Trento beni comuni l'avevamo già realizzato in questo in questo modo e adesso si tratta di andare a migliorarlo e renderlo più conforme agli obiettivi e al regolamento davvero utilizzato dal tema dei beni comuni dopodiché il concorso di idee appunto abbiamo utilizzato all'interno del progetto We Live per un portale simile per la coideazione e coprogettazione di servizi digitali però è specifico per dei servizi digitali questo si può ampliare per una partecipazione quindi un portale proprio specifico per dei concorsi di idee molto più ampi non legato a dei servizi digitali ma ad ampio spettro in modo tale da allargare dopodiché in realtà ci sono già degli strumenti di partecipazione esistenti anche molto importanti c'è il strumento di segnalazione suggerimenti di reclami sensor civico che può essere utilizzato direttamente tramite il sito ma anche direttamente dal vostro smartphone e quindi dal vostro telefono e comunque tutte le segnalazioni che vengono fatte sia anche telefonicamente o via mail ai singoli uffici poi vengono inserite all'interno dello strumento e permettono al comune di andare a realizzare il rapporto di ascolto del cittadino alla fine dell'anno che mostra esattamente come il comune ascolta il cittadino cosa che quando abbiamo presentato ad esempio al comune di Milano sono rimasti incredibilmente e favorevolmente colpiti dal fatto che si riesca a dare questo esempio di trasparenza di tutto quello che viene richiesto e delle risposte fornite dall'amministrazione un altro strumento è quello delle petizioni online il comune di Trento ha fatto un accordo con Change.org in modo tale da utilizzare la piattaforma di e-petition si chiama quindi di petizioni online per essere utilizzata proprio all'interno del comune di Trento e nel momento che vengono raggiunte un certo numero di sottoscrizioni vengono portate l'attenzione appunto del consiglio e poi c'è un patto ancora di beni comuni che permette di fornire segnalazioni in comunità tramite un'applicazione di cui si può avere informazioni direttamente allo stand del comune e questo è un patto anche con la polizia locale per raccogliere le segnalazioni di sicurezza e per fornire anche direttamente dalla polizia delle segnalazioni direttamente ai cittadini in base a dove si trova in un determinato momento quindi tutto questo è per dire che la partecipazione appunto è un tema molto importante tra l'altro è proprio il tema centrale di questa Smart City Week e che l'amministrazione si sta impegnando su questo in una maniera molto strutturata questo è un primo tassello specifico per il documento di obiettivi del PRG ma che verrà riproposto in altre forme e per altre finalità e che comunque è in parallelo affiancato da altri strumenti di partecipazione per approfondire per provare se sei curioso siete curiosi di conoscere anche gli altri strumenti e è possibile venirci a trovare per i contributi appunto allo stand del comune si può andare come avete visto negli uffici del comune o al Trento Lab in orario di lavoro ma ad esempio già sabato e domenica in questi giorni potete venirci a trovare direttamente allo stand e fare delle prove sono anche le campane che dicono è meglio che stringi per informazione tecnica c'è lo stand ad FBK per info su Stardust c'è lo stand del comune quindi il progetto che permette tutto questo e un altro evento domani pomeriggio quindi è una manifestazione giugno è un contributo arrivato direttamente dall'alto alleluia finito bene grazie a tutti e al prossimo evento grazie a tutti grazie a tutti